salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video o sono diventati dei geni o sono diventati bravissimi a scrivere delle caratteristiche tecniche molto molto pompate di cosa sto parlando ragazzi del nuovo hapsan zino mini pro questo piccolo drone di casa hapsan che sta per arrivare che peserà 249 grammi quindi nella stessa categoria del mavic mini e del film x8 mini ragazzi le caratteristiche ormai penso che le abbiate già viste sono incredibili ma sono incredibili uno perché sono fantastiche e due perché sono incredibili perché non ci credo che hapsan sia riuscita ad introdurre tanta tecnologia in 249 grammi non è riuscita a farlo con i suoi droni che pesavano circa 800 grammi cioè i vari zino zino 1 zino 2 plus zino 2 pro zino 2 zino 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 tutta questa raffica di zino a cui veniva cambiato leggermente il nome e modificato qualcosa dove però la consistenza reale si era sempre un pochino plafonata quindi droni che comunque non avevano sensori anticollisione mentre quali abbiamo sia anteriori che posteriori che sotto al drone mentre nell'apsan zino 1 se pensiamo che non c'era neanche l'optical flow adesso questo zino da 249 grammi ha sensori quasi ovunque ragazzi la fotocamera una fotocamera in 4k a 30 fps con un bit rate da 200 megabit per secondo cioè incredibile ma incredibile anche perché non ci credo loro erano arrivati a avere un bit rate che era intorno ai 60 70 megabit per secondo quando dji arriva intorno ai 100 megabit per secondo con il con il mini e quindi non riesco a capire dove siano riusciti a tirare fuori tutta questa tecnologia avanzatissima quando non riuscivano ad averla fino a un anno fa in droni appunto con dimensioni dove era tutto molto più semplice perché ricordiamoci che ha fatto fatica anche dji a rimpicciolire i suoi mavic dopo dji sicuramente avrebbe potuto dare molto di più non lo dà per altri motivi di marketing verso i suoi altri droni cioè secondo me dji se avesse voluto introdurre il sensore anticollisione probabilmente ci sarebbe riuscito ma poi sarebbe subentrato una competizione con il mavic air quindi sicuramente dji un pochino è stata indietro rispetto al suo limite massimo ma questi che dal creare droni low coste con proprio cose minime per avere un drone decente adesso mi tirano fuori un drone con caratteristiche da paura il range il range di controllo ragazzi parliamo di 10 chilometri di range l'app san zino 2 plus come cacchio si chiamava l'ultimo zino aveva un range di 8 chilometri qua abbiamo un range di 10 chilometri cioè ha pure aumentato il range e ha più range dell'ocu sync di dji cioè è qualcosa di incredibile cioè il mini 2 di dji con l'ocu sync 2.0 non ha quel range dichiarato e i minuti di volo i minuti di volo ragazzi 40 minuti di volo dji arriva a 30 minuti di volo quel suo mini queste arrivano a 40 minuti di volo con il questo drone cioè qualcosa di fuori da ogni realtà cioè per secondo me è impossibile che siano riusciti a fare tutto questo se poi pensiamo che il film x8 mini addirittura viene venduto all'inizio che pesa più di 250 grammi perché le batterie attualmente hanno quel peso quelle più leggere arriveranno dopo cioè e quindi vuol dire che hanno fatto fatica a fare stare tutto dentro a quel peso questi invece ci hanno messo veramente il mondo e poi per non parlare dell'arte tra con active track 3.0 cioè non lo so è tutto veramente pazzesco il codec video abbiamo il codec 265 quindi l'ultimo codec disponibile cioè veramente questo drone è il sogno di tutti avere un drone di 249 grammi però con caratteristiche praticamente di un mavic air 2 c'è una cosa fuori da ogni realtà però se noi analizziamo ragazzi che l'app san zino 2 plus o come cacchio si chiamava l'ultimo app san zino è stato un flop assurdo perché non sono riusciti a farlo volare o volare in maniera decente risolvendo gli problemi che aveva come cavoli hanno fatto adesso a tenere a fare un drone a 249 grammi con caratteristiche a livello di un mavic air 2 cioè non ci credo anche perché poi ragazzi il video comunque che si vede tutto quello che è apparso adesso nel sito di app san è comunque una ricreazione 3d del drone non si vede il drone realmente quindi non lo so quanto tempo ci vorrà prima che non arrivi sul mercato perché nel sito attualmente mi sembra che non ci sia ancora niente non lo so forse è solo una pubblicità di marketing per attirare attenzione verso app san dove praticamente dopo lo zino 2 è crollato drasticamente l'attenzione verso app san perché è stato un flop assurdo questo zino 2 super atteso ma con un sacco di difetti mai risolti dove essere l'evoluzione di quello che era un buon drone lo zino o lo zino pro comunque economici ma buoni lo zino 2 pro plus e poi tutti questi nomi assurdi che li attaccano per modificare magari anche solo due viti e gli cambiano il nome e che qua poi la cosa che mi ha sorpreso è anche questa che l'hanno già chiamato pro quindi si sono già giocati una dicitura del nome di solito se la giocano dopo invece se la sono giocata già subito compro strano anche questo comunque ragazzi questo era solo un video per dire le mie considerazioni riguardanti questo drone che ragazzi io spero che sia così lo speriamo tutti però non esaltiamoci perché hapsan per adesso non ci ha mai regalato cose incredibili quindi non esaltiamoci senza averlo provato e poi soprattutto non esaltiamoci di fronte a qualcosa che secondo me è quasi irreale soprattutto alcune caratteristiche sono davvero fuori da ogni realtà per quanto riguarda almeno la tecnologia attuale nei 249 grammi poi ripeto magari adesso c'è solo questa pubblicità con questo rendering 3d ma poi il drone uscirà magari fra un anno e ovviamente allora anche la tecnologia sarà evoluta ma se esce a breve io dubito che abbia queste caratteristiche se le a che siano realmente così e non siano solo scritte sulla confezione quindi ragazzi se questo mio video in cui ho portato queste mie considerazioni riguardanti l'app san zino mini pro vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate di questo app san zino come vedete voi hapsan nel mercato 249 grammi come vedete queste sue caratteristiche iscrivetevi se vi va al mio canale 3 come offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube non perdevi neanche un video un volo una recensione un testo una novità ciao